alta magia si può fissare al numero 335 65 92 908 un appuntamento riservato saprà consigliarti e aiutarti a risolvere il tuo problema affidati con fiducia lo specialista di alta magia letterius è custode di tutti i segreti dell'antica magia è il ricercatore del mondo dell'occulto mette a tua disposizione i ritrovati più potenti toglie fatture malocchio negatività in ambienti e persone attraverso riti magici del lontano 500 letterius toglie il tuo problema la fattura è un'azione con influenza negativa e si divide in malefica e satanica queste forme di male provocano disturbi a livello fisico e mentale il mago letterius con le sue facoltà annienta il male se la fortuna è cieca laiella ci vede benissimo ha declamato un saggio e mai sentenza fu più vera laiella ci vede talmente bene che sceglie con cura le sue vite